Armando, Armando, ma qual è la trattativa più lunga che hai avuto? Vieni che te la racconto. Allora, la trattativa più lunga che ho avuto è durata due anni e mezzo. In pratica ero stato contattato da un proprietario di un terreno edificabile qui all'Infernetto che voleva vendere. Ho fatto le mie indagini e ho scoperto che quel terreno faceva parte di quello che viene chiamato comparto edificatorio, ovvero il comune di Roma. Siccome non volevano fare più espropri di detti, perché quando una comunità come il comune di Roma ha bisogno di costruire delle scuole, per esempio, solitamente si fanno gli espropri e si pagano ai proprietari il terreno che hanno perso. In questo caso il comune ha inventato un modo diverso. Invece di espropriare i terreni sul quale poi ha costruito un asilo, ha pensato bene di accorpare in un unico contesto edificatorio anche i terreni limitrofi, così che i proprietari che perdevano il terreno dove veniva costruita la scuola potevano costruire insieme agli altri proprietari limitrofi, la loro casa, insieme ad altri. Ora, questo comparto che si trova all'Infernetto era composto di 32 proprietari, perché poi abbiamo avuto la felice idea di accorpare due comparti, il 15 e il 16. Ebbene, abbiamo avuto modo di metterli insieme tutti e 32, uno alla volta, con un contratto che prevedeva che alla firma dell'ultimo gli altri 31 proprietari erano vincolati. L'ammontare totale era di 10 miliardi e mezzo di lire, parliamo di lire, e su quei terreni oggi c'è un asilo, ma c'è anche la Carrefour, 42 villini e 60 appartamenti. Quindi ho avuto l'onore di poter trasformare un pezzo del territorio in quello che oggi molti chiamano casa.